Benvenuta a Peggy Sue, Peggy Sue, benvenuta a Peggy Sue, è meraviglioso averti qui in mezzo a noi. Grazie infinita. Sei venuto nel posto giusto, questa loggia fu fondata da un viaggiatore nel tempo, noi ti rimanderemo a casa. Certo, sai, questa è una grande emozione per tutti noi. Sai che stavamo aspettando da tanto tempo di trovare una come te? Sì! Quel cappello è obbligatole. Non ce l'ho già senza cappelli. E vai, questa musica la conosco. Aspetta. È Rudi Cipolla, è la musica di Rudi Cipolla. È nata a San Marco Argentano, sì, nel 1900. Applausi Cipolla. Allora, un ruore di Aten, sì, nel duro. Un ruore di Aten. Applausi Cipolla. Non è vero. Non ruore di Aten. Un ruore di Aten. Un ruore di Aten. Grazie a tutti.